Avete portato un po' di fortuna e facciamola anche prima del 5.000. Abbiamo portato un po' di fortuna. Sì, sì, sì. Grazie che mi avete portato un po' di fortuna e facciamola anche prima del 5.000. Cosa puoi raccontarci della gara? Tu papà ha detto che si aspettava l'ultimo guizzo per la vittoria. Io sono contento così. Ho cercato di giocare le mie carte, le ho giocate secondo me bene. Poi se arrivava qualcos'altro è meglio. Mi è arrivato un bronzo e sono contentissimo. Grandissimo. Grazie. Ti dico la verità, avrei firmato per il bronzo fino a un'ora fa. Poi vista come si era messa ho detto qua la vinciamo. Poi dopo ho sentito l'antidopio e ho detto che ero cotto, non ne avevo più, il caldo era massacrante. Però era contento. Mi ha detto papà va bene così. Io ho detto ti aspetto a festeggiare. Mi ha detto no, adesso parla senza voce. Mi ha detto papà io festeggio, il sabato sono i 5.000. Io ho detto sì ma vieni fai le foto o vai a casa. Grazie. 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 Grazie.